Browning HO 1935, pistola inerte, interamente in metallo, caricatore estraibile tramite pulsante laterale, armabile, il letto funzionante, dettagli molto ben rifiniti, attacco per correggiolo, realizzata interamente in metallo, loghi riportati, impressi sul carrello da ambo le parti, replica inerte, non spara, non emette alcun rumore, non spara nessun colpo, la canna è occlusa ed ha un tappo rosso frontale.